Salve a tutti ragazzi, SR Cristiano oggi per voi. Ancora un pelo di assenza ma ripeto il periodo è sempre quello e quindi ho un po' di difficoltà nel mettermi a registrare, tant'è che come sempre sono in ufficio. Questo video serve un po' sia per dimostrare che ci sono, ancora esisto, vivo, faccio cose e per parlare un po' di quello che ultimamente sta succedendo in casa Roma visto che è un po' che non parlo in generale. L'ultima notizia proprio di questo pomeriggio è l'infortunio in nazionale di Cumbulla che starà fuori minimo un mese al massimo per il resto della stagione e con una Roma in emergenza difensiva non è proprio la più rosea delle notizie però ormai come abbiamo capito dalla nostra storia piove sempre sul bagnato quindi siamo abituati anche a questo. Unica nota positiva del giro di nazionali è che nell'ultima partita dell'Italia Spinazzola migliore in campo quindi conferma questo ottimo momento di forma che va detto nell'ultimo mese e mezzo o due mesi per una buona metà Spinazzola sicuramente non è stato non è stato al top. Per il resto facendo volendo fare due ghiacchiere un punto sulla situazione della Roma noi stiamo vedendo come purtroppo l'obiettivo Champions League sia sempre più più distante perché la Roma perde perde col Napoli pareggia quando non dovrebbe purtroppo l'obiettivo quarto posto è sempre più lontano e che cosa dobbiamo pensare si intensificano le voci su un cambio di panchina a fine della stagione sicuramente il nome più parlato è quello di Allegri e sinceramente dovesse sedersi un Massimiliano Allegri sulla panchina della Roma io personalmente non sarei così scontento nonostante io apprezzi Paolo Fonseca come tecnico apprezzi la sua idea di gioco ma ora si può fare anche un punto della situazione arrivati al 29 di marzo e dopo quasi due stagioni del tecnico portoghese alla guida di questa squadra vediamo tanti limiti evidenti il primo fra tutti è che con le pari livello o le livello superiore la Roma praticamente non scende in campo oggettivamente la Roma prende solo imbarcate la Roma in quelle partite che dovrebbero essere fondamentali al raggiungimento degli obiettivi previssati praticamente non gioca la Roma praticamente subisce passivamente tutto ciò che accade nell'arco dei 90 minuti e quel che è peggio è che quella chiara idea di gioco che la Roma riesce a mettere in campo contro squadre meno blasonate cioè una Roma forte brava nel gioco delle fasce nella verticalizzazione veloce nel cross al centro che spesso e volentieri è funzionale porta al gol nell'ottima abilità nello sfruttare i calci da fermo in una pressione bassa in una costruzione dal basso che solitamente ripeto con squadre più deboli viene fatta benissimo un disimpegno difensivo che la Roma riesce sempre a svolgere con ottima attitudine anche grazie alla presenza di Brian Cristante che ricordiamo nella Roma giocare da difensore centrale ma essere de facto un centrocampista quindi evidentemente i piedi sono buoni o almeno sono più buoni di chi dovrebbe ricoprire il suo ruolo in campo questo però viene pagato con una più scarsa prestazione di posizionamento difensivo con delle sempre ottime uscite d'anticipo abbiamo visto tante volte Cristante farsi anticipare da attaccanti esperienziati e portare spesso e volentieri la Roma a subire gol questo magari con giocatori più modesti risulta più facile al centrocampista italiano questo è più o meno un'analisi corretta e verosimile di questo giocatore una Roma che comunque martoriata dagli infortuni è una costante ormai di questa squadra però ripeto Fonseca ha sicuramente dei limiti ha sicuramente delle colpe soprattutto in determinate partite che sono evidenti e o si risolve o si cambia semplicemente il timoniere della nave perché purtroppo le soluzioni sono quelle voglio dire nel senso che questo punto sembra proprio patologico questo tipo di prestazione nella squadra contro squadre del stesso livello se non viene risolto non certo possiamo pensare di continuare così uno due tre quattro anni che siano prendendo pizza a destra e a manca perché poi alla fine della stagione tu è vero che fai 60 punti contro le ultime tredici ma se ne fai zero contro le prime sette e tu 60 punti hai fatto in stagioni che non ti bastano a qualificarti in coppa dei campioni è quello il discorso purtroppo va risolto questo problema un problema che va risolto e o cambi tecnico o il tecnico cambia se stesso quindi poco c'è da dire per il resto speriamo che la roma almeno riesca a continuare questo suo cammino che finora è estremamente positivo direi quasi ottimo impeccabile in europa league sperando sperando di riuscire a arrivare non dico a vincere il trofeo ma quantomeno a non fare brutta figura e arrivare a raggiungere le semifinali non lo so speriamo tanti dicono addirittura che la permanenza del tecnico sia legato alla vittoria di questo trofeo anche se secondo me è fanta mercato fanta giornalismo perché pretendere che la roma vinca un trofeo di stampo europeo vedendo anche le avversarie rimaste in gioco perché noi abbiamo le inglesi che sappiamo essere squadre importanti squadri forti il manchester united in particolare che è stato costruito e ha i giocatori non dico per vincere la coppa dei campioni ma poter arrivare sicuramente alle fasi finali di quella competizione quindi vincere un europa league per il manchester united con quella squadra dovrebbe essere il minimo sindacale e gli interpreti in campo te lo possono permettere l'ajax stesso che la roma si troverà ad affrontare nel prossimo turno che è una squadra fortissima non più di qualche anno fa l'abbiamo vista dominare con un gioco stupendo in champions league quindi trovarsela contro da avversario non è affatto facile per il resto io spero vivamente di riuscire a essere un po più costante ripeto il periodo è difficile per tutti in generale per me lo sta diventando in particolar modo e ci tengo a salutare un ragazzo che commenta sempre i miei video mi fa domande l'ultimo che ho letto è ti ho visto in dei video vecchi con sick wolf sì perché io e sick wolf questo non 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 è che lo sanno tutti perché chi cazzarola lo deve sapere io e lui cominciamo a fare video insieme anzi all'inizio del mai anni e anni fa io avevo più iscritti di sick wolf tant'è che lui venne a chiedermi possiamo fare un video insieme facciamo un intervista insieme io contentissimo ovviamente accettato di buon grado poi lui nel corso degli anni ha continuato a fare quello che lo appassionava e che appassiona anche me in realtà cioè per l'amore l'amore che si prova per questa squadra e io ho accannato lui no lui è arrivato dove merita di stare e nulla questa è una piccola chicca e e nulla detto questo io come sempre vi saluto e vi ringrazio forza roma e a basso lazio